Pescara, sempre più città-cantiere tra disagi inevitabili, polemiche e preoccupazioni sulla durata dei lavori. Certamente opere necessarie, anche se è importante tener conto delle esigenze di cittadini ed esercenti. Da questo punto di vista è stato accolto con molto favore dalle associazioni di categoria il confronto periodico con l'amministrazione comunale. Basta che non si riduca il tutto ad un mero punto d'ascolto, ma si tenga anche conto delle proposte. E intanto da ieri è avviato il cantiere per la riqualificazione radicale sul corso Umberto, mentre a pochi metri sono fin troppo evidenti i segni di una piazza a sacro cuore ancora tutta da sistemare. Sullo sfondo i dati impietosi sul commercio in centro a Pescara, secondo un sondaggio di confe esercenti, in calo d'agosto a dicembre del 30% e il timore che possano esserci dei contrattempi che vadano a rallentare i lavori come la realizzazione non preventivata di sottoservizi per l'irrigazione sul corso Umberto. Le nostre proposte sono sicuramente sempre di avere un dialogo con i direttori di lavori, poter avere anche delle aiuti a livello proprio di cartellonistica, di abbellire la zona, di tenerla sempre pulita. Questo sul corso Vittorio lo abbiamo ottenuto perché quest'estate comunque i locali food hanno continuato a poter somministrare all'esterno. Ora dobbiamo abbellire il corso perché vedere solamente queste rete grill sono un po' tristi. Abbiamo più volte manifestato le criticità del centro pescarese, i problemi di Piazza Muzzi, ora è venuto il momento di cambiare rotta. Se da maggio il comune ci dice che la città sarà più bella, assieme a questo occorreranno una serie di iniziative che dovranno essere presentate in anticipo che porteranno tante persone nella nostra città.